facciamo in una recensione topolino 3400 numero tondo centenario con anche la montagna di marco rota una bella copertina che da inizio a una nuova saga guardiamolo meglio insieme ho deciso di continuare l'iniziativa legata alle monete e quindi eccoci qua con questa nuova monetina tra l'altro grave mio errore quello di pensare che agli abbonati non sarebbe arrivata per cui ho dovuto e ormai l'ho fatto ho comprato un volume 3400 con la sua monetina pensando che abbonati non arrivi invece arriverà mi ritroverò con un doppio 3400 doppia monetina che rimarrà chiuso probabilmente a vita da collezionismo molto carino qui qua devo dire un ottimo lavoro anche nel piccolo nello stretto per marco rota dove al suo esterno troviamo il numero uno davvero molto bello io tengo questo fragile cofanetto raccoglitore in una bustina perché qui solo a guardarlo si graffia e si rovina ma andiamo a inserire la numero 2 la numero uno che sia io le inserisco alla fine un po a mio piacere interesse per cui non penso ci sia un ordine cronologico visto che neanche quello hanno fatto ma avrebbero meritato sicuramente di più un cofanetto per questo tipo di monete ma guardiamo il topolino della settimana 3400 numero tondo a cui però non fa nessun riferimento il numero in copertina a un po mi dispiace per quanto sia molto bella perché di francesco di ippolito che da inizio una saga di sergio cabella così sì che sono aerodinamico silvia ziche con topolino che prende velocità grazie alle sue orecchie un teaser nuovo legato ad aria 15 quindi il suo sequel che non sarà più di charrone gagnor ma sarà di nuci ermetti se non vado errato ritroviamo alex bertani con due cambiamenti grafici cambia l'immagine seria che aveva un tempo lo spiega anche il motivo e un po anche abbandona quel giallo tipico di redazionale un po mi dispiace ma comunque ciò che conta il contenuto e ci va bene così un po di spoiler e anticipazione sui prossimi numeri ce la fa sempre qui qua nel micromondo il primo episodio fantomius il secondo paperino paperi messi alle guai e la macchia invisibile in due parti quindi una storia di sottopolino divisa in due abbiamo questa storia di sergio capella per i disegni di giampaolo soldati cui sono sincero mi aspettavo di più onestamente è una saga che narra così come ci si aspettasse che per qualche motivo in questo caso legato a marchi ingegno di archimede qui co qua incuriositi succede qualcosa e vanno a finire nel micromondo o meglio diventano loro piccoli quanto gli insetti quanto i ragni quanto le formiche questa è la trama ovviamente archimede ritorna in casa e non capisce cosa sia successo ma in realtà ci vorrà poco a capirlo perché uno dei tre cappellini di quello verde rimane nel nel mondo originale e quindi può sospettare che i nipotini con tutto ciò qualcosa c'entrino onestamente non mi è piaciuta per lo meno questo inizio troppo brusco troppo accelerato scena dopo l'altra non tanto per la mentoria dei nipotini ma per quello che c'è attorno quindi tutta la confusione un po i discorsi che si chiamano farchimede di popperone quasi come se non fossero così troppo spaventati che i nipotini così piccoli andassero in un mondo che di fatto possono essere mangiati da delle formiche insomma poi la storia prende una conclusione o che ovviamente non sarà tale perché solo alla fine dell'episodio un po secondo me è tranciata a metà non c'è nessun tipo di suspense infatti quando lessi fine dell'episodio dicevo e siamo solo durante un'avventura non lo so c'è qualcosa che non mi piace l'unico aspetto interessante è che gli insetti non parlano la lingua dei paperi ma parlano la loro lingua quindi interessante il rapporto che si crea tra nipoti e insetti ovviamente un relazionale legato a loro questo ci può stare interessante e si va avanti con fantomius il secondo episodio marco gervasio dirige tutto soggetto sceneggiatura e disegni io fantomius lo ripeto lo definisco il miglior personaggio e contesto di paperopoli lo è diventato non lo era un tempo per me fantomius entra in contatto da dove ci eravamo lasciati con dio paperone paperino e archimedo ovviamente non poteva dire tutto quello che è successo ma dirà che lui è un agente segreto una sorta di spia della polizia che deve recuperare una maschera la maschera di gengis cut che senape senza però dirglielo ovviamente ha o comunque vorrebbe rubare ovviamente questa maschera dov'è nel museo di paperopoli diretto da dio paperone quindi prima bisogna capire se quella maschera effettivamente è sua o meno una volta appurato che la maschera non ci dovrebbe stare lì effettivamente fantomius con l'aiuto di paperino è una cosa strana questa non penso sia mai successo cui fantomius interagisce con paperino arrivano a reperire quella maschera vai non vi dico altro perché altrimenti vi direi troppo ma la storia è molto carina e tra l'altro ha un finale che non voglio assolutamente spoilerarvi perché è davvero qualcosa di super intrigante in realtà i finali sono due due cose che accadono nell'arco di due pagine che io non mi sarei mai aspettato paperino billy e il blu nevoso svolazzatore davide aicardi un esordio nuovo abbiamo il topolino col soggetto sceneggiatura e gian paolo soldati nuovamente pure qua al disegno una storia tutto sommato carina dura poco circa 14 15 pagine in cui aicardi mette in mostra il suo potenziale vedremo se sarà ben accolto dalla critica per me ci può stare bisognerebbe vederlo un po all'opera con storie un pochino più particolari più complesse questa è una storia in cui in realtà non vi è data una bella spiegazione a questa patata blu che poi si rivela essere un qualcosa di molto raffinato livello alimentare che vorrebbe essere presa allo zio ma essa scappa e sarà billy e paperino a rintracciarla e a ritrovarla la prova è buona tra i disegni che sono molto belli ma soldati non è una novità lo è aicardi la novità la new entry però la storia a un finale una serie di cose insomma non è che mi lasciano chissà quale emozione ma insomma come prima prova di esordio ci può anche stare io lo darei come promosso vedremo in storie più complesse paperi mestiere guai disastri in cantiere gabrile panini e morizio mendola relativamente al soggetto sceneggiatura e disegni altra storia che continuo con questa piccola rubrica legata beneva per oga in vista di guai in questo caso nell'edilizia non vi dico altro immaginate prima prima per oga cosa potranno mai combinare nel ben mezzo di un cantiere la storia per fortuna dura poco dico per fortuna perché di fatto non potrebbe durare di più sono veramente delle piccole gag affiancate e non c'è nulla di troppo particolare la macchia invisibile matteo venerus e di polito ai disegni c'è da premettere che la storia di cinque anni fa addirittura sei ma che solo ora viene approvata questi sono motivi editoriali della direzione ce lo fa sapere di polito infatti disegni non sono per nulla sui suoi se immaginate che questi stessi disegni dal tratto e dal contorno così sottile da un tratto comunque neanche troppo preciso secondo me poco dettagliati ad arrivare a questo ce n'è ecco insomma quindi di polito negli ultimi anni è maturato tantissimo ma per carità mi piaceva pure come l'ora al tempo ma si nota che un di polito differente la storia viene ammendata alla fine dell'ottocento nella campagna inglese in cui topolino clarabella orazio vedremo anche ganci insomma una serie di personaggi topolino dovranno rendere conto di uno strano e losco individuo che apparentemente non ha nessun tipo di corpo perché è invisibile infatti spogliandosi risulta essere invisibile e questa sarà la sua peculiarità ovviamente tra la prima e la seconda pagina viene anche intromesso gamba di legno che risulta essere un suo scagnozzo perché di fatto quel personaggio invisibile non è altro che macchia nera che in questa storia si chiama griffin e che onestamente mi è piaciuta la storia di questo macchia nera legato a questo contesto ovviamente parliamo di un mondo parallelo perché da qui si narra che macchia nera non voleva essere visto così nero come colui che poteva dar fastidio che poteva spaventare con questa brutta tuta insomma poteva essere così brutto da vedere e quindi si tinge di questa pozione dell'invisibilità una storia carina tutto sommato in due parti il disegno comunque articolato ma si nota che è un disegno acerbo di un dipolito che ora saprebbe fare cose migliori ma risulta essere una trama comunque sceneggiata da matteo venerus veramente interessante quindi la provo sicuramente più quasi della saga del minimondo onestamente musica maestro conclude l'album questo piccolo editoriale legato in intervista a una giovane musicista perché troveremo la prossima settimana a mia sorpresa perché non mi ricordavo fosse a gennaio o fosse a febbraio il topolibro legato alla musica o meglio all'opera onestamente non me lo aspettavo perché io pensavo questo gadget sarebbe uscito dopo le paper monete invece esce nel bel pieno di quell'iniziativa per cui altri 9 euro da spendere ma li spendo volentieri a differenza delle monetine cui ne rimango con molto rancore di questa spesa e a differenza anche di altri gadget in passato in futuro che non prenderò i topolibri l'ho sempre acquistati tra l'altro se sono abbonato quindi manderò la mia copia fotografata alla panini tramite mail di contatto così che da prolungare l'abbonamento ma io l'ho sempre comprati a prescindere i topolibri perché sono tematici cartonati belli pagine bianche un bel materiale e poi solitamente anche con belle storie in questo caso di guido martina un'anteprima del prossimo numero con una bella copertina ti direi di paolo mottura perché il tratto è quello che da l'inizio o il continuo comunque a giramondo che è una saga che ormai ci portiamo dietro da un bel po di tempo fantomius episodio 3 qui con quale episodio 2 paperoga con una sua storia sulla micro focalizzazione e storia papera pensavo che fosse terminata questa rubrica invece continua un paperino in una delle sue più brutte copertine degli ultimi tempi ma ovviamente lo comprerò a maggior ragione perché sono un collezionista e perché uscirà anche una monetina legata a lui e questo era il fumetto di questa settimana onestamente mi piace non in toto perché a riguardare l'indice la saga di guico qua non mi è piaciuta per tanti motivi neanche troppo a livello grafico giampaolo soldati ci ha abituati anche a disegni ben migliori onestamente come quella legata proprio a billy quindi onestamente non non mi è piaciuta in tanti aspetti e poi anche nella trama nella sceneggiatura un po troppo brusca accelerata e quasi banale fantomius rimane la miglior storia dell'album come la scorsa volta paperino e billy una bella storia scorrevole così come mestiere guai e macchina invisibile insomma nella boccia nella promuovo rimane un po lì nel limbo giusta storia di conclusione tra l'altro di due parti che alla fine dai ci può stare comunque ovviamente per i collezionisti manco a dire il volume va comprato anche perché c'è la monetina se fate la collezione per dollari delle monete vedete un lettore occasionale boh fate voi in base alle vostre esigenze ma sicuramente andrà ruba visto che c'è anche la seconda monetina che comunque rinquadro è uno spettacolo mi piacciono un sacco se non foste per questo dannato cartoncino peccato comunque per oggi è tutto e ci vediamo la prossima recensione ciao ciao